Oltre ad aver interpretato la regina Elisabetta nel film che le ha permesso di vincere il suo primo Oscar, Helen Mirren si è vista assegnare dalla regina stessa il titolo di dama dell'impero britannico. Ma l'attrice vanta comunque origini prestigiose, è infatti nipote di un aristocratico russo della corte imperiale dello zar vissuto all'inizio del XX secolo. A Roma Helen Mirren ha ricevuto un premio alla carriera nel corso del Roma Fiction Fest ed è stata presentata per l'occasione Elisabetta I, la miniserie televisiva da lei interpretata qualche anno fa. Le film film sono stati molto più vicini, come si dice, su televisione. Quando ho iniziato in televisione, ho sempre detto, e era vero, che la industria britannica vivia su televisione. La industria film, come si era molto difficile. Quindi tutti i reali artisti di film stavano su televisione. Movies e televisioni hanno diventato molto vicino in una essenza di un altro. e se guardi un'incredibile, incredibile pezzo di lavoro, come Roma, è meglio che il film di Cleopatra che stavano Elisabetta Taylor. È meglio in ogni modo, tecnicamente, storie, costumi, tutto. Recentemente la mira ne è apparsa nel film d'avventura il mistero delle pagine perdute a fianco del protagonista Nicolas Cage. Fra i premi vinti, la palma d'oro al Festival di Cannes come miglior attrice non protagonista per La Pazzia di Re Giorgio e per il film Cal nel 1984, senza tralasciare tutti i riconoscimenti per la pellicola di Stephen Frears, The Queen, per cui ha ricevuto la Coppa Volpi e l'Academy Award. Ora, comunque, con l'internet, la televisione e la film è diventata la stessa cosa. È qualcosa che guarda sulla tua scena, e lo downloaderà. Ora, grazie a Dio, con il cable, la televisione americana è molto migliore. C'era una fantastica serie in Britannia, chiamata Gavin and Stacy, che era fantastica. C'era una comoda, e mi piace buona televisione. E Rome, ho guardato tutto, ogni ogni episodio di Rome. C'è una nuova serie di televisione americana, chiamata Mad Men, sull'industria pubblica dell'advertimento del 1950. È fantastica, fatta da un uomo che ha fatto The Sopranos. È fantastica. Ciao!